E il tutto si sta? Iperfetto Che d'un momento MF Fatta Stamina Babe, Stamina Che si, ero 4 secondi 4 secondi Ok, fiorellini Fate soca i fiorellini Spendilo Ma come credo? Spendilo perché dovevo Occhio a schivare Attivate le pallette I raccidetti di Gobi Spendilo Spurla Luca Spendilo 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 via del cerchio interno seguite il verde andiamo verso l'AD via 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 devi stare più vicini è un casino curare andiamo indietro sempre sul verde e state vicino e state vicino possibilmente mele c'è una bolla bella tocare schivare i raggetti che arrivano guardate dove cadono le palline verdi dal cielo lì è dove fare i raggetti qui prendi no urla urla rocca rocca nice moreto mamma mia quanti pezzi davanti una un'altra una un'altra un'altra Grazie a tutti.